la ria 58 è la guida guido si ricorda ancora abbastanza bene che sei un po' che non la guida guido fa schifo bene fare le prove, le hanno spiegato bene anche perché le due poverine dietro devono tornare a casa occhio occhio senti che silenzio, che suspense per seguire le evoluzioni del povero guido è arrivato qua per godersi un'oretta di spettacolo l'abbiamo cacciato in mezzo a fare di tutto ma quando sei un personaggio dello spettacolo anche questo tipo non fa proprio come che secondo me passano anche peggio all'interno della sua BMW bianca Michele Pianosi, il nostro star fan grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti